Cari amici, eccolo qua, il libro di Alessandro Majorano, Il bandito da Firenze, con la prestigiosa prefazione del notissimo professore Carlo Taormina. Il mio nome non compare, io comunque faccio parte del progetto, sono stato un po' l'ispiratore, il catalizzatore e l'ideatore del tutto. Voglio citare anche il giornalista Ruggero Capone che presenterà l'importantissima conferenza stampa del 20 novembre 2021 alle ore 17 alle ore 17 presso il prestigiosissimo Grand Hotel Napoleon, in quel di Roma, naturalmente a 200-300 metri dal Colosseo. In questa circostanza varrà veramente la pena di essere presenti, la conferenza stampa è riservata solo ai giornalisti, sarà l'occasione per parlare del libro, naturalmente, ma il professor Carlo Taormina rilascerà anche delle importanti, veramente importanti e succulente dichiarazioni sulla stretta attualità e su quello che sta capitando proprio nelle ultime settimane. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto.